Un altro importante traguardo per le ginnaste della Gymnastics Club, questa volta qual è il risultato raggiunto, prestigioso, che è preludio di un'altra importante tappa? Finale regionale a Catania, presso il Palalivatino a Catania stesso, abbiamo praticamente raggiunto ottimi risultati sul podio. Le ginnaste si sono date battaglia contro le altre delle varie società sportive siciliane e quello che mi ha in qualche modo un po' reso felice è perché hanno ottenuto sì gli ottimi risultati, ma lo hanno ottenuto lavorando in maniera totalmente indipendente rispetto agli altri, nel senso che hanno lavorato e si sono riscaldate indipendentemente dal lavoro degli altri. E questo è stato il carattere che in qualche modo cerchiamo di far uscire fuori. Prossima importante tappa? Loro hanno ottenuto il pass per le finali nazionali che si faranno a Pesron a giugno 2016. Siete pronti per affrontare questa nuova sfida? Non siamo mai pronti, ma ovviamente ci alleneremo con questo obiettivo. Che cosa vuol dire per voi essere campionesse regionali? È stato bellissimo partecipare a questa gara perché a parte me tutti abbiamo raggiunto dei risultati bellissimi, quindi è stata una soddisfazione enorme per noi. Io sono Marika, ho 9 anni e ho partecipato alla gara regionale, primo livello, prima fascia, con gli attrezzi fune, palla e corpo libero. È stata la mia prima gara regionale, sono arrivata seconda e sono stata felicissima perché come ho già detto è stata la mia prima gara e è stata una grande soddisfazione salire sul podio. Io sono Rachele e ho 10 anni e ho fatto la gara a primo livello, prima fascia, con gli attrezzi fune, palla e corpo libero. Sono arrivata al nonoposto ma sono stata abbattuta perché, grazie alle parole di Walter, che aveva detto che anche se abbiamo fatto tanti errori non significa che siamo meno brave, ma che in quel giorno abbiamo fatto più errori. Io mi chiamo Clara Gervetti, ho 11 anni e faccio ginnastica ritmica da 4 anni. Il mio sogno è sempre stato quello di andare alle Olimpiadi e in quest'anno alla gara regionale sono arrivata prima e quindi sono campionessa regionale ed è stata un'avventura molto entusiasmante arrivare sul primo gradino. Mi chiamo Elaria Cataldo, ho 12 anni e ho gareggiato nel terzo livello seconda fascia con gli attrezzi palla, fune, cerchio e nastro. Per me è stata un'emozione grandissima salire sul secondo gradino del podio, cioè non me l'aspettavo comunque perché anche se abbiamo lavorato moltissimo in palestra è sempre un'emozione nuova salire appunto lì e ritrovarsi tutti che ti applaudono e tutti che ti acclamano.